Il risultato più soddisfacente è stato quello di preparare un esame in soli cinque giorni. I miei compagni di corso preparano il minimo in un mese o in un mese e mezzo. Sono al primo anno di biologia, io sull'economia aziendale ho applicato il metodo e ho già dato tutti gli esami del mio preguardo. Infatti sono libero, non vedrai esami fino a gennaio del l'anno prossimo. Sono molto contento che senza il metodo avrei fatto una cosa peggio. Abbiamo iniziato a credere in noi stessi, abbiamo iniziato a capire che le cose non vanno veramente come sembrano e che siamo noi a decidere come devono andare le cose, non a lasciare agli altri decidere per noi. Di certo è un investimento molto importante questo. Se dovessi rifare questa scelta la farei altre centomila volte perché non esiste cifra esalta per poter quantificare la felicità che si è creata. È semplicemente la cosa più bella di questo mondo. È un investimento che non solo va per l'università. L'università è la prima cosa ma è importante anche nella vita perché ti cambia proprio come persona, ti fa diventare una persona che tu non credevi di poter diventare ma che poi in realtà sei. Ed è la cosa più bella. Oltre tutti gli esami, tutti i 30, il massimo voto alla laurea, non è paragonabile al fatto di scoprire che sei una persona che non credevi di essere e che sei forte dentro e ci sono altre persone come te che vogliono cambiare questo mondo. Prima cambiando se stessi. Ne vale la pena. Innanzitutto per i contenuti che ci stanno formando. Non vogliamo essere lamentuosi, non vogliamo morire sugli esami, non vogliamo lasciare agli altri decidere per noi stessi, non vogliamo farci risucchiare da un sistema marcio, ma semplicemente vogliamo sfruttarlo a nostro vantaggio. Io l'ho acquistato nel passaggio, diciamo, tra la scuola superiore e l'inizio dell'università. Ed infatti ho concluso la mia prima sessione dando tutti e tre gli esami, poi la seconda sessione in maniera anticipata dando tre esami in un mese. Il risultato più soddisfacente è stato quello di preparare un esame in soli cinque giorni. I miei compagni di corso preparano un minimo in un mese o in un mese e mezzo. Ciao ragazzi! Ciao! Vedetevi esami in sette giorni! Grazie a tutti!